Nel lontano 2006 Q7 è stato l'apripista nel settore sub per il brand dei quattro anelli. Ora, vista la concorrenza di modelli più piccoli, economici e meno inquinanti, Audi rinnova l'offerta di Q7, proponendo un restyling estetico e tecnologico. Le dimensioni mastodontiche che superano 5 metri di lunghezza e le 2 tonnellate di peso non impediscono al SUV di mantenere una maneggevolezza ed una dinamicità quasi paradossale. Il merito va al nuovo propulsore Mind Hybrid e alla notevole coppia di 600 Nm che spostano con tranquillità le 2 tonnellate in qualsiasi situazione. In aiuto alla dinamica di guida arriva il nuovo sistema antirollio attivo che, in coppiata al sistema di trazione integrale 4 e le 4 ruote sterzanti, rendono algide la vettura anche in curva. Il comportamento in autostrada, ne accadirlo, è dei migliori. Comfort da prima della classe, sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione ed una spaziosità più che generosa. Il 3 litri turbodiesel viene gestito bene dal Tiptronic, contenendo il leggero turbolempio e tenendo sempre la coppia più alta per qualunque sorpasso o spunto, anche se la sua vocazione rimane il comfort. Se si cerca più brio, bisogna rivolgere la propria attenzione su SQ7. SQ7.